Donoresta è il momento in cui ci ha lasciato e in realtà abbiamo scoperto che ha seminato un grande percorso che è quello che stiamo portando avanti, quello della giustizia, di quei valori che portava avanti lui. Per cui, nonostante siamo passati già sette anni, ci ritroviamo qua a marciare in piazza con i disabili. Questa sera andremo in strada dalle prostitute, barboni e tutto il mondo dell'emarginazione. Faremo una messa domani al cimitero per i bambini mai nati e così siamo ancora in cammino e lo ringraziamo in questi giorni per quello che ci ha lasciato. I poveri cambiano sempre, le realtà cambiano, però l'approccio è rimasto sempre lo stesso. Noi l'unica cosa che sappiamo fare bene è quella di andare a vivere con loro, di mettere la nostra spalla sotto la loro e poi insieme vedere quello che riusciamo a fare. Non è mai cambiato, questo faceva Don Oreste, anche il giorno prima di morire era andato in strada a incontrare queste persone e noi faremo altrettanto, per cui non è cambiato niente in questo. Grazie. 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 Grazie.